Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo Se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video All Beauty Siamo andate a OVS con mamma La sacchettina è finissima Buon Natale OVS, tutto in scozzese, finissimo Prima cosa che ho preso è lui Da 59, pare abbia detto così, c'era il 30% L'abbiamo pagato 41 E non è vero di vedere il tutto Questo qui ho preso Poi Tiro sul sacchettino Adesso ve lo faccio vedere dopo Poi ho preso Ho preso il Matti Femme Pore Minimizing Primer With Black Clay Di la linea Prime Plus Studio Di Essence Che risulta vegano Se non sapete Essence è sia vegana che cruelty free Io non lo sapevo ma dove c'è scritto vegano Io mi cifiondo Poi ho preso Poi ho preso You Better Work Lend Definition Mascara Gin Proof E Waterproof Sempre della linea You Better Work You Better Work Fixing Spray Sapete tutti i prezzi di Essence Poi ho preso Poi ho preso anche la cipria Che si è Mi è caduta Mentre prendevo le cose E si è rotta Infatti vedete Mi è caduta Si è rotto il pack Però la cipria è sana e salva E' una Fixing Powder You Better Work Aggiusterò Questo cosetto qui Se si aggiusta Non lo sa Spero di si Che si aggiusti in qualche modo Se no ci metto lo scotch Per farla rimanere chiusa Io volevo dirlo Se potevo lasciarlo lì e prendere un'altra Mi hanno avuto che prendessi questa rotta Comunque La trovate integra E con la spugnetta Poi Sempre di Essence Ho preso tutto quello che era Vediamo Vediamo il correttore Che mi sono pentita di non aver preso Ho preso la Crystal Power Blush Highlighter Che l'avevo vista con la mia amica Jessica Ah fantastico E' sfracellata Bene Non la posso far vedere perché è sfracellata E' molto sfracellata Comunque ve la faccio intravedere ma E' completamente distrutta Benissimo E' oggi è il giorno delle distruggiture Poi ho preso l'Eyebrow Stylist Set 01 Natural Brunette Questo andava molto in voga Ne parlava un sacco di questo D'abbè se c'è anche Sì Gli stampini per le sopracciglia Poi ho preso lui Quando ho visto lui Mi sono ricordata Mi piaceva un sacco Soft Touch Mousse Makeup Ho preso Matte Vanilla Che dovrebbe essere Vedete se ne è uno ancora più chiaro Però questo Dovrebbe andare bene per me L'altro era rosato Poi ho preso Smoothie Gloss Sweet Peach Che è risultato anche lui vegano E ho preso l'Eyebrow Gel Il Brunette No 01 Brown Se no c'era Blonde Ma io Blonde Dove sto Blonde? No Sempre nella New Better Work Ho preso Tint Day Cream 10 Light Anti Shine Skin Perfecting Questa qui Adesso dovrò Non so se L'abbiamo rotta noi O si è rotta nel mente Ma è spappolata Benissimo Benissimo Fa molto piacere Questo era per quanto riguardava Essence e Revolution Mi sono dimenticata Il correttore di Essence Che era anche lui vegano Cercherò di prenderlo online O se ci vado per la palettina Poi Mi è arrivato l'ordine Mulac Che ho dovuto buttare via tutte le scatole Mulac Mi ha pianto il cuore Ma questa piccolina la teniamo Questa piccolina non sarebbe buttata Mi hanno messo dentro Cherry Charge Face Body Intensive Nourish Treatment Crema Vigratante E Contornocchi Ah tutta la linea Cherry Charge Io della linea Cherry Charge ho preso contornocchi Mi piace Ho ordinato solo una cosa Perchè sapete che quest'anno ho fatto Molte odine Mulac Molte odine Mulac Che belle Non ce l'avevo questa Legata E ho preso Belle Il blush Con la sua palettina Ho preso Belle Questo qui Che è un blush molto molto carino E la sua palettina Refill E questo era l'ordine Beauty Adesso che Dovrò tornare dall'OVS E Farmi cambiare questa perchè è spappolata Prenderò anche il correttore Senza ordinarlo online Non so se l'abbiamo rotta noi nel trasporto O Non penso Non è caduto niente Non lo so Questo era tutto l'All Beauty Cerco di mettere tutto qui dentro Non so se ci sta E' l'ordine E' quello delle cose rotte Va bene così E' tanto che non compravo Essence Sapendo che è vegane e cruelty free Mi sono lanciata un pochino Ci sono tante marche Vegan e cruelty free Che vorrei provare La Essence A me è sempre piaciuta Adesso volevo mettere questa Che è sfaracillata La devo mettere qui Al sicuro E niente questo era l'All Beauty Di questa macchinata lunediana E niente spero che il video vi sia piaciuto È stato utile in qualche modo Lasciate un like Un commentino qui sotto Iscrivetevi al canale Che mi fa un sacco piacere Vi mando un grosso bacio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao